Chiusi i lavori da parte della Commissione elettorale a Palazzo di Città a Salerno, questa mattina allo scoccare di mezzogiorno il magistrato Maria Stefania Picece, presidente del Centro elettorale centrale, delegata dal presidente del Tribunale di Salerno, ha ufficializzato e proclamato i consiglieri comunali di Salerno nel corso di una breve cerimonia che si è svolta nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città. 32 consiglieri, nessun colpo di scena, nessuna anomalia nelle operazioni elettorali e di voto. I nomi dei consiglieri comunali non sono cambiati rispetto ai giorni successivi a voto, così come non ci sono stati voti in più, come qualcuno aveva palesato rispetto al numero degli elettori. Si è concluso, ha detto la presidente Maria Stefania Picece, un lavoro certosino su 31 liste, 152 sezioni, con quasi 1000 candidati. I tempi occorsi fino ad oggi sono stati semplicemente fisiologici. È stato un lungo lavoro, un lavoro certosino, anche appassionato e appassionante. Speriamo di aver reso un buon servigio a tutta la città, che sapevamo che attendeva con ansia, ma i tempi erano quelli fisiologici, gli stessi degli altri anni e anche un po' degli altri comuni del circondario. Abbiamo fatto un lavoro, ripeto, molto analitico. Abbiamo controllato i voti, le tabelle di scrutinio, ovviamente non le schede. Non ci sono stati colpi di scena, non abbiamo rilevato anomalie nelle operazioni elettorali, c'erano le operazioni di voto e quindi penso che possiamo affermare serenamente che il lavoro è concluso ed si è concluso bene. 32 consiglieri per i quali dunque non cambia sostanzialmente il quadro rispetto ai primi giorni dopo le elezioni? No, non cambia. Erano già noti i risultati. Ripeto, c'era qualche imprecisione, qualche imperfezione nei verbali, ma no, i risultati non cambiano, sono quelli, sono confermati. Che tipo di incongruenze avete trovato? Delle dimenticanze, dei verbali magari non compilati bene, ma insomma qualcosa di fisiologico, almeno per quello che abbiamo riscontrato noi. Possiamo dunque completamente accantonare le polemiche che si erano scadenate il giorno dopo il voto. mentre voi lavoravate qui a Palazzo di Città, ovviamente l'inchiesta pesava anche sui commenti che potevano essere fatti in merito al lavoro della Commissione elettorale. Si è parlato anche di voti in più rispetto al numero di elettori. No, non abbiamo riscontrato questo. Ripeto, abbiamo riscontrato delle imprecisioni nei verbali, sono state chiarite. Ovviamente questo è per la parte che noi abbiamo controllato. Poi ovviamente se ci fossero delle altre cose da chiarire, da acclarare, non è questa la sede. Però ripeto, noi non abbiamo riscontrato nulla di anomalo, di particolarmente anomalo. Normale anche che i tempi siano stati così lunghi? Allora, avevamo 31 liste, 152 sezioni, quasi forse 1000 candidati. E quindi volendo fare un lavoro, ripeto, per una questione di trasparenza e di precisione, i tempi sono stati fisiologici. Grazie. Grazie.